Il rispetto Il rispetto per me significa non giudicare gli altri in base alle differenze che hanno rispetto a te. Rispetto è accettare le persone per come sono. Il rispetto è importante perché se tu rispetti una persona, quella persona a vicenda rispetterà te. Rispetto 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 . Rispetto 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 Grazie a tutti